Quando si tratta di lampadine auto, vale la pena di spendere poco. Qual è il modo migliore per risparmiare? Meglio una lampada di tonalità più gialla, oppure più bianca? Facciamo chiarezza. Lampadine auto, caratteristiche principali. Sapete cosa cambia davvero tra i diversi modelli di lampade alogene per auto? Sullo scaffale delle lampadine trovate tante proposte, ma non è così scontato fare un buon acquisto. Come capire qual è la più luminosa e la più conveniente? Prima di tutto, leggete le caratteristiche sulla scatola o sul listino, così come fate per le lampadine di casa. Ci sono dispositivi che offrono un raggio luminoso costante, altri che optano per una maggiore intensità, insomma, ognuno ha le sue particolarità e sono impossibili da elentare. Valutate la temperatura del colore. Se una classica lampada offre 500 Kelvin ed è gialla, esistono anche lampade omologate fino a 4500 K, che emetteranno luce bianca, sempre tendente al giallo. Ma in mano che i Kelvin aumentano, la luce tende al color ghiaccio, blu, diventando fredda, con la conseguenza che illuminerà meno la strada davanti a voi. Lampadine auto, garanzie e prezzi. C'è una garanzia per le lampadine auto? Anche in questo caso, leggete chiaramente le indicazioni, oppure cercate ulteriori informazioni online, in alcuni casi, conservando. Lo scontrino potreste ottenere una garanzia. Ma i prezzi? In genere, nonostante l'ampia offerta di mercato, il costo medio per una lampadina alogena allo xeno, di marca, va dai 15 ai 20 euro. Cada una, mentre le lampadine a scarica di gas, id, costano sui 100 euro, o più. Tra i marchi più apprezzati ci sono Philips, Bosch e Osram, potete acquistare questi prodotti anche online, oppure dal vostro rivenditore di fiducia. Se invece non volete fare da soli, portate la macchina in officina e si occuperanno loro di tutta la procedura, fornendo anche i dispositivi adatti. Le migliori lampadine per auto devono anche resistere all'umidità, agli sbalzi termici improvvisi, alle temperature estreme, alle intemperie e alle forti vibrazioni, e sono omologate ecce. Da non sottovalutare è anche il sistema di dissipazione del calore, indispensabile per farle durare a lungo. Lampadine auto, cosa c'è da sapere? Se scegliete lampadine più azzurrate sempre a norma, otterrete un fascio di luce simile a quello dell'Xeno, con un tipo di contrasto. Adatto per vedere i contorni degli oggetti anche in condizioni di scarsa luminosità. Per quanto riguarda invece il colore del bulbo delle lampadine alogene, questo serve per regalare un look più grintoso ai fari anche quando sono spenti, e nei casi di lampade economiche tenta di imitare l'estetica dei prodotti di qualità. Come sceglielo? Le H4, due filamenti in un bulbo, vanno da 55 a 100 Watt an abbagliante, filamento più piccolo, mentre per l'abbagliante vanno dai 60 ai 130 Watt. Le H7, un solo filamento a incandescenza, vanno da 55 a 80 Watt per entrambi. Sulle scatole, trovate doppie indicazioni perché la stessa lampada è omologata sia come abbagliante che an abbagliante. Ad ogni modo, più è la potenza, più sarà la luce, ma anche il calore. Troppo, opacizza il faro e può rovinarlo. Per questo non serve montare lampadine troppo potenti per fare più luce, ma è corretto rispettare le regole e scegliere le migliori.